Giorno Presidente, che ne pensa della ricostruzione? Oddio, già mi sono pronunciato diverse volte su questa cosa. La ricostruzione intanto va rilento, perché secondo noi le incombenze da porre in essere non riguardano tanto la parte tecnica. La parte tecnica, la parte ingegneristica della pratica all'USR non supera un quinto, un quarto di tutti gli atti da presentare. Quindi bisogna vedere se quello che è stato denunciato ieri sul centro, che ho detto sul centro, che praticamente ci sono molte pratiche che vengono rimandate intiero, bisogna vedere su che cosa vengono rimandate intiero, se manca una cartuccella o se c'è una carenza di livello tecnico, di livello ingegneristico. Lei come vedrebbe un super tecnico nel comitato scientifico del commissario Piero Farabolini, un super tecnico terramano per esempio? Ma lo vedo bene, lo vedo, è evidente. Poi penso di conoscerne il nome. La domanda io adesso la posto qui al dottore presente, perché pare che le nostre fonti comunali abbiano fatto il suo nome, Romolo Di Francesco. Giancarlo, se la polizia avesse i suoi stessi informatori, tutti i delinquenti sarebbero già in galera. Sì, sono io il super tecnico nominato dal commissario straordinario per la ricostruzione. Non sono l'unico ovviamente, perché ha inteso costituire un comitato scientifico che lo affianchi, che lo aiuta a pianificare le nuove ordinanze, ad accelerare questa ricostruzione. Penso ne abbia nominato un totale di 16, 4 per ognuna delle 4 regioni coinvolte. Io rappresenterò tutto quanto il territorio terramano.